Ciao, sono Gian Domenico Manuel e vengo da Matera, studio lì, sono però pugliese di Gioia del Colle e studio per l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. Allora, questa esperienza lavorativa è molto importante per noi restauratori perché non ci permette di avere soltanto un approccio teorico con le opere d'arte, ma noi le tocchiamo, le vediamo da molto più vicino, con un punto di vista che è particolarissimo e questo ci permette di sviluppare una sensibilità che certamente i libri non possono darci. E poi il cantiere è importantissimo per lo spirito di gruppo, per i tempi di lavoro, l'organizzazione, è un'esperienza sicuramente molto importante. Bologna è una città intensissima, la viviamo ogni giorno camminando per le sue strade, fermandoci quando dobbiamo interrompere il lavoro, le persone sono molto cordiali, ci hanno sempre sostenuto, ci tengono tantissimo a Nettuno e questa è una cosa che ci dà tanto entusiasmo. Bologna è bellissima anche perché l'altro giorno abbiamo organizzato una caccia al tesoro, anzi era una sfida artistica e abbiamo scelto come tappe diversi monumenti qui per le strade di Bologna e ogni giorno comunque ci stupisce con uno scorcio bellissimo, con questa colorazione caratteristica di tutte le strade.